La biodiversità è la varietà degli esseri viventi che popolano i diversi ecosistemi. I ecosistemi forniscono all'umanità numerosi vantaggi, distinti in beni come cibo, acqua, carburanti, legname, medicine. Servizi ecosistemici come approvvigionamento idrico, purificazione dell'aria, riciclo naturale dei rifiuti, formazione del suolo, impollinazione e molti altri meccanismi regolatori naturali. Alcuni uccelli sono indicatori di biodiversità. Guardate quanti tipi di becchi possiamo trovare. E anche di zampe ce ne sono di tante forme e dimensioni. Le penne, anche loro di tanti tipi, tengono al caldo, rendono impermeabili, mimetizzano dei predatori e conquistano le femmine. Dopo essere state conquistate, le femmine depongono le uova nei loro nidi, ma alcune fanno le furbette. In Italia lo studio del cuculo parte dal Canada, atterramirandolo attraverso Palermo. Perché da noi ce la SOM, stazione ornitologica modenese, il petto azzurro, che dà un grande aiuto ai ricercatori. E ci siamo anche noi che aiutiamo tanto, eh sì! Noi non solo impariamo, ma aiutiamo anche a comunicare i risultati della ricerca. Oh oh, ma cosa sta succedendo? Il cuculo dei problemi nel mondo. Perché? È colpa della dieta diversa? Urge applicarle il metodo scientifico. Ciao, sono Chris Seusson, da BTO. Questo anno ci saranno trattare più cuckure dall'Unione Unite e prossimo speriamo di venire a Italia per fare qualche. Il progetto Icarus è una antena di trattamento di antena di wildlife dell'antena International Space Station. L'antena è riuscito, sarà un'espaceporto l'anno di spazio per l'anno per cercare tutto. E prossimo speriamo di dare un'attesa di tag per mettere in molti di paesi, come, spero, in Italia. Io sono Nicola e siamo pronti anche noi come squadra di lavoro per analizzare con i nostri fantastici tamponi ciò che i vostri uccelli e i nostri uccellacci in giro per il mondo trasportano, un lavoro di ecologia, microbica, di genomica e di applicazione. A presto, ciao! Hola chicos, io sono Beatriz della Università Complutense di Madrid e qui in Spagna siamo listi per catturare tutti i cuccioli e compararli con i guattoli italiani. Siamo pronti! Ciao! ! Ciao! ! ! !